Due bambini di 5-6 anni frequentanti la stessa scuola elementare a Liverpool, Regno Unito, sono deceduti a causa di un'infezione intestinale. Michelle Beard, preside della Milstead Primary School nel sobborgo di Everton, ha confermato il triste evento ricordando come i due bambini portassero gioia nelle loro classi. I media britannici hanno riportato che la scuola sta affrontando un'epidemia di giardiasi, un'infezione intestinale causata dal parassito unicellulare giardia. Tuttavia, funzionari della sanità pubblica ritengono improbabile che questa sia la causa diretta delle morti dei bambini. La preside ha espresso il cordoglio della comunità scolastica. L'intera comunità della Milstead School è devastata dalla notizia della scomparsa di due dei nostri piccoli. Stiamo collaborando con famiglie, personale e alunni per offrire supporto in questo momento di grande dolore. Il parassito giardia si diffonde attraverso l'acqua contaminata, come quella di ruscelli, laghi o pozzanghere o tramite contatto con persone infette. Nonostante sia difficile da diagnosticare, la giardiasi è solitamente trattabile e con antibiotici non è considerata altamente pericolosa. Le autorità continuano a monitorare la situazione cercando di determinare la causa esatta del decesso dei due bambini, mentre la scuola reste impegnata nel fornire tutto il supporto necessario a chi è stato colpito da questa tragica perdita. Grazie a tutti!